Mettersi alla guida prestando attenzione solo al messaggio che stiamo mandando o alla chiamata che stiamo facendo al cellulare. Ecco quello che non bisognerebbe mai fare. Polizia stradale e corpo dei vigili urbani raccomandano sempre prudenza, ma ormai guidare senza mai staccare lo sguardo dallo smartphone e senza prestare attenzione a tutto quello che ci circonda sono abitudini ampiamente diffuse e che causano ogni anno un numero sempre più elevato di incidenti. L'ultimo caso a Mascaluccia, in provincia di Catania, dove una donna è stata investita da un giovane che stava parlando al cellulare mentre si trovava alla guida. Una distrazione di pochi secondi che poteva costare molto caro. Fortunatamente la donna che stava attraversando la strada con l'intera famiglia non sarebbe in pericolo di vita ed è stata immediatamente trasportata in ospedale. Da qui si ripropone il tema dell'applicabilità della legge 41 del 2016 che introduce il reato di omicidio stradale. L'omicidio stradale è una normativa ancora nuova su cui è efficace, sui cui effetti chiaramente io ritengo che ancora è troppo presto per dare un giudizio consuntivo, aspettiamo almeno un altro anno. Dubbiamente l'inaspirimento delle sanzioni ha un'efficacia di deterrenza e dovrebbe avere un'efficacia di deterrenza nei confronti di questo tipo di comportamenti. Cosa rischia l'automobilista che investe il pedone mentre messaggia, parla al cellulare, alcuni addirittura usano il tablet? Ormai con l'omicidio stradale lei capisce benissimo che le sanzioni, anche se il reato rimane colposo, comunque le sanzioni sono molto elevate, su questo il legislatore è stato chiaro, quindi possono arrivare anche 8-10 anni di carcere e con sanzioni accessorie molto 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 severe sulla sospensione del titolabrio della guida.